Siamo qui con Davide Nicolini, allenatore dell'Atletic Falco, mister 2-0, l'Atletic riparte, questa vittoria ci voleva? Sì, ci voleva questa vittoria perché nel bene e nel male la sconfitta col Torre Pedrera ancora bruciava e bensì oggi non abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti e fondamentali. L'Atletic ha dominato dal primo minuto fino alla fine però ha mostrato forse il poco cinismo che aveva sfoggiato anche nel corso dell'ultima partita. Questa volta ovviamente è riuscita a vincere segnando però le occasioni da gol continuano ad essere sprecate. Sì, fino a quando si crea tanto bisogna essere positivi e quando non si crea che bisogna iniziare a fermarsi e a capire il perché. Sì, abbiamo sbagliato tanti gol, siamo stati poco cinici però io sono abbastanza sereno perché so benissimo che nonostante ne prendo uno a caso, Andrea Molari oggi abbia sbagliato tanti gol, sfruttato e servito male nella prima parte, nella seconda parte sfruttato e servito bene e non è riuscito a fare gol. Andrea Molari è un giocatore che farà gol. Gli altri che hanno sbagliato devono, come lui, stare sereni, tranquilli e poi i gol arrivano. Poi bisogna stare, secondo me, molto sereni e tranquilli soprattutto quando si vince 2-0. Sì, era importante tornare innanzitutto a far punti perché andare a Perticara che so che hanno vinto anche oggi quindi hanno credo la quinta o sesta vittoria consecutiva che fanno quindi sono una buona squadra poi nel loro campo è sempre dura giocare. Noi speriamo di andare con meno diffidati possibili, so che ci sono già due squalifiche quindi dura la settimana ma ce l'aspettavamo. Se domenica era una partita dove siamo andati a casa con una prestazione discreta ma con 0 punti oggi andiamo a casa con una prestazione non sufficiente però con 3 punti. Mi sembra che dagli altri risultati siamo terzi. Cosa ti è piaciuto dell'Atletic di oggi? Mi è piaciuta la voglia, mi è piaciuta la voglia che comunque sia, ci sono state un sacco di situazioni dove alla prima occasione che non entrava ci fermavamo comunque dicevamo ecco è un'altra domenica che non va invece abbiamo cercato di risollevarla, è andata bene che proviamo molte palle ferme in settimana e dopo mi è andata bene quindi sono contento. Diciamo che ce la stiamo mettendo tutta, siamo un po' rimaneggiati in tutti i reparti stiamo cercando veramente di salvare il salvabile per il momento stiamo facendo giocare tutti i ragazzi del nostro paese, possibilmente del nostro paese abbiamo una politica diversa quest'anno per quanto riguarda entrare in campo preferiamo la presenza dei nostri ragazzi che hanno poca esperienza ma ce la stanno mettendo tutta. Avremo modo con l'apertura del mercato di riprovare un attimino a rinforzarci, la partita sicuramente si meritava la vittoria agli avversari però non andiamo via demoralizzati, siamo abbastanza soddisfatti.